Un folle gesto, un'azione per gelosia e un tragico epilogo. Infine, la consegna ai carabinieri di Corsico. Si è costituito nella notte il killer di Luigi Danesi, si è presentato dai carabinieri della compagnia di Corsico guidati dal tenente colonnello Domenico Lapadula e dal tenente Armando Laviola e ha confermato di essere stato lui a uccidere il rivale in amore domenica pomeriggio a Cesano Boscone. All'origine dell'omicidio ci sarebbe una lite per una 39enne di Cesano, ex moglie della vittima e attuale compagna del killer, un tunisino con cui aveva un figlio di 13 anni. Danesi si è rappresentato all'incontro con la donna per cercare di convincerla a tornare insieme dopo la rottura avvenuta qualche mese fa. Poi è arrivato il tunisino, prima la lite sentita dai vicini, poi la coltellata mortale. Il tunisino ha così premuto la lama sul collo del 36enne, uccidendolo, inutili soccorsi. L'uomo è morto appena arrivato in ospedale, il killer si era dato alla fuga e poi nella notte si è costituito, ammettendo le proprie responsabilità davanti ai carabinieri. Rimane da chiarire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio, le indagini sono ancora in corso. Il sindaco di Cesano Boscone, Simone Negri, ha così commentato, la possibile risoluzione del caso è importante, senza dubbio la giustizia farà il suo corso e si toglie un omicida dalle strade. Resta inevitabilmente un'immensa tristezza però per il morto e il dolore di chi gli voleva bene, per il trauma di chi ha visto o sentito, perché ci si sente più insicuri per un modello di vita che inevitabilmente ha fatto presa. Mi ha colpito che la vittima si facesse chiamare il camorrista, quasi per attestarsi uno status criminale. È un problema sociale che tanti ragazzi, anche sotto il condizionamento di tante serie televisive, vedano nelle mafie un esempio di riscatto, perché poi di reale ci sono solo la violenza, la precarietà esistenziale e le tragedie che ne scaturiscono.